A Ragusa non c'è quindi il servizio socio-psicopedagogico che per 37 anni mai era mancato. E ciò perché il Comune ha ritenuto di non poterlo garantire, neanche a fronte della provocatoria disponibilità gratuita dell'impresa che lo ha espletato negli ultimi due anni. Un'impresa diversa rispetto ai 35 anni precedenti in cui a vincere la gara o a vedersi comunque giudicato il servizio, in ogni forma, anche con numerose proroghe, era la solita associazione di tre cooperative integratissime nella macchina degli uffici comunali, che invece avrebbe dovuto controllarle. A fronte di un servizio inappuntabile e decisamente migliorativo, per qualità, organizzazione, trasparenza, efficace e risultati, l'impresa, la cooperativa e il girotondo si è vista per due anni boicottare costantemente dagli uffici e da quasi tutte le rappresentanze politiche, tutti a caccia di presunte inadempienze e anomalie, che invece puntualmente si manifestavano nel loro posto, regolarità, efficienza, trasparenza. Cose però del tutto diverse rispetto ai 35 anni precedenti. Un lungo storico andazzo fatto di irregolarità, inadempienze, disordine e mancanza assoluta di trasparenza. C'erano perfino due contabilità parallele, una ufficiale e una per altri fini, puntualmente denunciata dalla girotondo al dirigente comunale Francesco Lumiera, ma non succede nulla. Il comune dimentica di accertare, verificare e controllare, ma non dimentica di tartassare in ogni modo la cooperativa che sta espletando un servizio di migliore qualità, pur tra ostacoli e sabotaggi portati dal comune che sembra spalleggiare le imprese di prima, anche a costo di violare i diritti dei beneficiari, bambini e famiglie abusando dei loro dati sensibili. Le prove sono tutte scolpite in una fittissima documentazione che al comune non interessa. Anzi, in quegli uffici l'abbiamo visto in relazione ad un altro dei servizi sociali, quello di Scuolabus, e radicata una parentopoli che turba e inquina il ruolo dell'istituzione comunale. La girotondo per tutelare bambine e famiglie si vede costretta a modificare le password d'accesso alla piattaforma che documenta l'attività operativa del servizio e a negare il rilascio ai dirigenti e funzionari comunali che ne pretendono la disponibilità. Per metterle a disposizione delle tre imprese che non hanno più titolo nel servizio ma che al comune sono sempre di casa. In effetti, da Lumiera dopo due mesi una risposta arriva. È stato un errore, ma il dirigente omette di riferire di un incontro tenutosi addirittura cinque mesi prima al quale, oltre a figure politiche, dirigenti e funzionari interni, ci sono anche, senza alcun titolo, rappresentanti delle imprese ormai estranei all'espletamento del servizio. Ai quali sono dati in visione i report coperti da privacy, tutto normale per quei dirigenti e funzionari al punto che Maria Carfì, funzionario coordinatore aria minori e la responsabile unica del procedimento, Patrizia Calabrese, attestano l'autorizzazione di tutti i presenti alla visione, perché scrivono a vario titolo coinvolti nel servizio. Difficile però riconoscere questo titolo alle imprese che col servizio lo hanno espletato in passato e che ora dovrebbero esserne del tutto estranei. Funzionari e dirigenti comunali dovrebbero spiegare molte cose. A chi? È difficile dire, visto che, a Palazzo dell'Aquila almeno al tempo dei fatti non pare vi sia chi abbia voglia e capacità di fare il proprio dovere. E se anche oggi le cose stanno così, c'è bisogno chiaramente di organismi capaci e affidabili fuori da quel palazzo.